Presidente della Regione Abruzzo, sottosegretario, parlamentare, un politico d'altri tempi, Romeo Ricciuti, scomparso nella notte. L'Aquila e l'Abruzzo lo piangono, pur non essendo nato all'Aquila nel capoluogo a vissuto, rappresentato un punto di riferimento importante per la crescita economica e sociale del territorio. Decisamente un pezzo di storia che se ne va, storia della città dell'Aquila, della Regione e della nazione intera. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, a partire da quello del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ma anche quello del Sindaco, del Senatore Liris, dell'Assessore Imprudente e tanti altri. Un politico di altri tempi, che ha raggiunto i massimi livelli, ma che ha saputo interpretare sempre i bisogni della sua comunità. Lascia i figli Luca e Paolo e la moglie Eleonora. Era nato nel 1930 a Giuliano Teatino, dal 77 all'81, come si diceva, fu Presidente dell'Abruzzo, più volte sottosegretario e deputato. Davvero una carriera politica importante, iniziata con la democrazia cristiana. È stato fondamentale per lo sviluppo di molti progetti in Abruzzo, soprattutto a livello di infrastrutture. Romero Ricciuto è uno di quei personaggi che hanno reso grande l'Abruzzo all'interno delle istituzioni, non solo della nostra Regione, ma del panorama nazionale. Ha avuto tanti incarichi, ha sempre guardato con particolare antiresse al mondo delle aree interne, ma nella sua complessità anche la nostra Regione. Oggi piangiamo un uomo di spessore, un uomo delle istituzioni e siamo vicini, come Regione Abruzzo, a tutta la famiglia.